bella ragazzi bentornati con dax oggi un'altra puntata del rotto commander su black ops allora sono qui dopo la partita praticamente di prima di ieri e oggi siamo su summit sempre dominio quindi adesso vediamo un po' ero intenzionato a usare l'mp5k ragazzi soltanto che so già che farò una partitaccia quindi non insultatemi ragazzi miei capitemi anzi venitemi incontro per favore e quindi userò l'mp5k poi non so con cosa cavolo mi sono dimenticato di sbloccarmi la k mi sono dimenticato di sbloccarmi la k vabbè niente dai mp5k e il prossimo episodio penso che ve lo farò con la k pino 74 e quindi adesso vediamo fai quick ragazzi miei non dovete cioè insomma tentarmi in questo modo tentarmi poi ho capito che volete rovinarmi la reputazione però insomma ragazzi no comunque vi farò non vi preoccupate che ci saranno delle partite dov'è no che cavolo che pirla è vero che sono sempre tutti lì che pirla ho commesso il più grande errore che potevo commettere non sparando là grande quello lì è un fenomeno u2 disponibile u2 alleato in arrivo u2 alleato in arrivo stiamo prendendo charlie stiamo prendendo charlie mitico no 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 stiamo prendendo b che pirla no questo dove cavolo dove stanno nascendo ok adesso mi lancio no merda merdone mi lancio alla carica ragazzi un saluto a johnny crick detto anche johnny stamboli vabbè non so cosa ho detto comunque fate finta di niente ragazzi sono tutti qui vediamo vediamo teoricamente dovrebbero essere tutti lì nooo perchè non ricarico perchè non ricarico voglio sapere come mai voglio sapere come mai e finezza rubiamo un comandino dorato addirittura adesso ci facciamo il giretto e moriamo così in scioltezza alla grande anche maledetto sto volendo un po' troppe volte per i miei gusti 8 8 iniziamo a ragionarcela un secondo perchè perchè dobbiamo tra l'altro ragazzi devo scusarmi per il commento perchè mi rendo conto che non non sto commentando molto bene solo che merda ma dove cavolo ho iniziato a spararmi questo qua ho iniziato a sparare dall'altra parte ah ma sono giù ok ok cambiamo arma e usiamo l'rpk ragazzi vai cambiamo l'approvvigione mia andi vediamo un po' quello si salta fuori ma con la mia fortuna ragazzi sicuramente nooo no 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 cioè mi fa incazzare munizioni vabbè secondo te ok tiriamoci su il rateo un po' va o perlomeno proviamo a tirareci su un po' il rateo e questa mi sembra una partita difficile mi sembra un partitozzo difficilozzo allora vediamo cavolo via 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 no 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 dove l'ho tirata ok sono tutti qui arrivano tutti da qui girati girati dove sei ok 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 camperiamocela un attimo vai dai dai merda che palle sta partita non riesco ad andare oltre gli appiorvigionamenti anche perchè comunque c'è dovrai anche fare dei giri un po' diversi secondo me ragazzi vabbè comunque siamo 125 69 dai almeno rcxd non la posso vedere questa macchina qua tutte le volte che muoio mi incazzo come uno stronzo quindi muori no 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 mettiamo una granata così alla cavolo alla cavolo alla cavolo cazzo ho fatto questo raccanto era come un disperato merda rcxd pronto all'uso rcxd allora troviamo no uff auc nooo ma come fa' quel caro con lo spasso rcxd 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 dove cavolo era quello o 2 nemico in arrivo o non muore muori cacchio stiamo prendendo b stiamo prendendo b stiamo prendendo b vado questo drop shoot adesso ne arriveranno ancora sicuro nooo beh sempre quello con lo spasso sempre lo spasso lo spasso lo spasso in questo gioco ragazzi lo 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 non è che lo odio però non cioè secondo me non c'entra proprio nulla con lo spasso di mv2 si l'ho detto non c'entra proprio nulla non c'entra veramente un non nulla che cacchio ancora con lo spasso hai rotto i coglioni con questo cazzo di spasso silenziato di merda che poi tra l'altro è anche bruttissimo muori muori anche tu e muori ancora allora vediamo un attimo dove sono e muori ancora si nooo ma che cavolo ma guarda questo guardalo adesso ti lancio gli rcxd così almeno toh me le chiappine che cacchio sono morto 21 volte ragazzi oh my god 21 morti vabbè questo qua diciamo che non è stato proprio un gameplay dei migliori cioè ce n'è uno da qualche parte lì ma non si sa bene dove muori cazzo e vaffanculo vabbè ragazzi 37 e 22 dai connessione anche tra l'altro solo due comunque vabbè non è una scusa niente dai spero che vi sia piaciutino e ci vediamo domani con un nuovo episodio ragazzi ciao bella ciao ciao